Eccoci qua, siamo pronti, abbiamo già invaso il palco perché saremo qua a TSN, io come presentatore del Carnevale Domenica a Sondrio. Sarà una grande Carnevale quest'anno, vedete, stanno già allestendo il palco e noi ci godiamo le interviste che andiamo in giro a fare per Sondrio. Di cosa parliamo? Ma è chiaro, di Carnevale! Domenica è Carnevale a Sondrio. Sì, l'ho scoperto due giorni fa. Due giorni fa? Eh, non è scritto da nessuna parte. Dai, non c'è un cartello in giro. Ma io non ho visti che lavoro parlo. A parte uno striscione enorme sul campanile, ma non l'hai visto. Io non ci passo mai. Quindi ci vorrebbero più cartelli? Sì. Questa è una buona indicazione, la diamo all'organizzazione. Ecco. Diamo all'organizzazione questa indicazione. Un po' più di cartelli la prossima volta, grazie agli organizzatori. Però, volevamo parlare con te di Carnevale, possiamo? Sì. Ti ricordi l'ultimo vestito che hai messo di Carnevale? L'ultimo vestito che hai messo di Carnevale? No, perché a me toccavano Zorro e... No, principesse. Tu principesse? A voglia. Buona giornata comunque, buon Carnevale lo stesso. Grazie mille. Signora, buongiorno. No. Come sta? Male. No, 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 stia, stia. Non volevo far alzare lei. Mi sta accompagnando una signora, non volevo certo rovinarle. No, perché è accompagnata il signore? No, perché ci siamo noi. Perché non mi piace farsi intervistare da nessuno. D'accordo. Vi voglio tenerla privacy. Posso solo salutarla e dirle buona giornata? Non ci risponda, se no si sente per televisione. Non rispondiamo, si sente per televisione. Brutto mostro a chi? L'ha detto a me brutto mostro. Sto per... del mostro anche oggi. È fantastica oggi la mia uscita. Che vestito ti hanno messo? Perché a questo punto ti hanno messo, giusto? Te lo ricordi? Che vestito mi mettevi? Da gattino. Come da gattino? Da gattino? Sai che adesso vanno di moda tutti quei pigiami tuttoni che più o meno... E tu eri già avanti? Eh sì, prevedevo la moda già da picco. No, attenzione, la prevedevano loro perché hanno detto che te l'hanno messo e non puoi portare a casa le buone cose. E no, non funziona così. Purtroppo. Purtroppo, se devi assegnare meriti. Tu ti ricordi? Io a me toccavano... Il mio? Sì. No. A me toccavano Zorro e Cowboy, cioè c'erano, quelli c'erano... La contadina, ma che ne so. La contadina! Mi ricordo all'asilo che... La roba delle castagne in testa. Da carota. Da carota. Come si chiama la mamma, il nome del battesimo? Anita. Mamma Anita. Cioè, proprio da carota dovevi vestirla. Ciao. Ciao. Grazie.